Il Cine Club Vittorio De Sica Il Cine Club Vittorio De Sica Abbiamo portato in questi anni Winspear, abbiamo avuto la presenza di Peter Del Monte, abbiamo avuto ovviamente Pasquale Plastino che lavora con il regista Verdone e Winspear dicevamo, quindi decine di registi da latri che hanno portato la loro ventata di innovazione, di novità e registi importanti come Salvatore Mereu hanno avuto premi e riconoscimenti in tutto il mondo quindi una operazione quella del Cine Club Vittorio De Sica che in questi anni ci ha visti impegnati nel portare e far conoscere il nostro territorio da questi registi quasi come una sorta di location, intenzione di fare una location naturale dei nostri luoghi ma anche e soprattutto per far toccare con mano ai nostri tanti associati un rapporto più diretto con gli autori del cinema e in particolare noi torniamo quindi a parlare di cinema, parlare direttamente con autori importanti come appunto Citto Maselli che rappresenta un pezzo importante della storia del cinema, del cinema sociale, il cinema di impegno civile, del cinema d'autore impegnato appunto sul fronte della ricerca ma anche della psicologia ricordiamo un film di una quindicina d'anni fa dove vedeva la unica protagonista Ornella Muti, Codice Privato un film introspettivo di scuola assolutamente di scuola antonioniana e dal sociale all'introspettivo un regista che ha esplorato lo scibile umano e a Rioniero siamo onorati di averlo con noi, siamo onorati di avere una figura così importante del cinema di impegno umano e civile